Benvenuti per la prima volta e bentrovati come sempre all'interno di questo racconto in puntate divise giorno per giorno ogni puntata un giorno. Siamo in aprile, quindi racconto di aprile, e siamo arrivati a pagina 21, siamo quasi agli sgoccioli della storia. Il racconto parla di Arturo, un ricercatore, che drogato dal voler essere un ospite televisivo finisce per trovarsi in braga di tela, metaforicamente parlando, si intende, sua moglie lo accoglie nel suo lavoro e lui lavora con lei. Però il lavoro principale di Arturo è sempre stato un ricercatore, riesce, come avete già visto nelle pagine precedenti e se non le avete viste vi consiglio di andarle a vedere, riesce a riciclarsi all'interno della serra secondo le sue competenze. Però, come si può dire, forse il destino ha qualcosa di più per lui, non voglio dire altro. Quindi vi lascio alla lettura e all'ascolto della puntata. Buon ascolto e buona lettura. Arturo rimise in ordine tutti i registi della moglie con una tranquillità e una facilità tali da sembrare di averlo sempre fatto nella vita. La sua conoscenza dei fogli di calcolo e dei data base lo portava ad avere una dimestichezza tale da essere una scheggia, più di quello stagista ventenne che la moglie aveva dovuto assumere su pressione della associazione delle imprese. Benedetta dovette parlare con l'associazione e dire che lo stagista non poteva più tenerlo più perché aveva suo marito che faceva il lavoro meglio di chiunque altro e quindi si fidava più di lui che degli estranei. Poi, su consiglio della moglie dopo essersi documentato sui comportamenti delle varie piante, ridisegnò la mappa biopolitica di tutta la serra, con degli ottimi risultati in termini di resa. Perché dove una pianta aveva dei nemici, un'altra amici e quindi ci fu accoppiata vincente. E di conseguenza ogni pianta prese posto all'interno della serra secondo determinate regole da parte della moglie estetiche, da parte del marito di vita biologica. Il tutto venne documentato nel libro che avrebbe dovuto scrivere per l'Arnolli, cioè la casa editrice con l'anticipo più consistente che aveva ricevuto. Dopo due anni da parte dell'Ateneo di cui Arturo aveva fatto parte, arrivò in un pacco il suo vecchio computer, riconsegnato da lui alla data indicata via mail due anni prima e una pila di libri di fresca pubblicazione. Si trattava di copie del suo corso di studi, inviato dopo il consiglio di pacoltà. Allora aveva fatto centro, si disse tra se e se Arturo. Dopo tutto quel tempo l'Ateneo gli riconosceva il suo talento di studioso. Il suo corso di studi, a detta di un collega che gli fece una chiamata per risentirlo dopo tanto tempo, faceva furore. Gli omise nella telefonata che volevano farlo ritornare all'interno dell'Ateneo, ma sapeva che quelli del rettorato avrebbero fatto la cosa insaputa di Arturo. Quando Arturo vide quel materiale dentro il pacco che proveniva dall'Ateneo, non sapeva cosa essere, triste per il dovere abbandonare la serra o felice di poter tornare a insegnare e a studiare. Se volete sapere come andrà avanti il racconto, come uno logicamente farebbe, vi chiedo di aspettare domani, mercoledì 27, per leggere la pagina numero 22, la pagina successiva, quella che avete ascoltato e letto fino ad adesso. Con questo vi saluto e vi rimando a domani. Ciao ciao!